ci troviamo all'hard rock cafe di venezia per la presentazione del messi burger cioè l'hamburger di leo messi brava l'hard rock cafe mi aspettavo l'hamburger di mac jagger perché invece proprio il calcio perché 50 anni fa quando abbiamo aperto il primo carro caffè di londra hanno aiutato una squadra di di calcio locale e questa maglietta ha avuto tanto successo in modo che abbiamo quelli che erano avanzate che non erano essenti usate le abbiamo portato al caffè e cominciato a distribuire tra i nostri clienti più aficionati e l'ha nato la collezione più del merchandising del nostro iconico merchandising questo hamburger messi l'ha proprio pensato lui l'ha pensato lui insieme ai nostri collaboratori per in modo di tirare lui ha scelto gli ingredienti e quindi A presto. Però io credo che il rock, altro che musica, è un'attitudine, un atteggiamento, no? Quindi avere quell'atteggiamento rock e con quello in mente andare avanti. Ma tu fai anche del rock, tu? Eh? Fai rock, tu? E infatti io ho cominciato a lavorare come camerieri proprio perché ho detto questo posto è fighissimo, mi piace lavorare qua. Grazie e buongiorno mattina. Grazie a voi. Grazie a voi.